a video top per l'appuntamento fucina questa settimana un ospite straordinario lo stilista dei vip mister o miss che pierre mister mister paolo posso chiamarti paolo o paola ma che paolo stai attento alle vocali che sono importanti accidenti sembrava un effetto frusta invece tu sei venuto per vendere misure tira su il gomito galateo della televisione innanzitutto stai bene innanzitutto io sono qui per prenderti il disturbo notti disturbare notizia di due o tre puntate fa che la gente si chiede dov'è il disturbo di paolo a destra o a sinistra che sono dettagli irrilevanti in termini di moda la signora gina di cantù mi ha detto prendigli in mano il disturbo e stringilo forte da parte mia no no signora gina la inviterei ad andare no non lo dico per tele e in che senso dove va perché se la incito ad andare allora mi devi dire è più a sinistra o è più a destra è a secondo di come uno devo saperlo devo saperlo facciamo a destra via allora sei come quella tacco che non nascondeva dietro non mi interessa non possiamo parlare di me tu devi portare la tendenza a quello che è la moda 2018 molto avanti allora innanzitutto moda 2018 ritorna la giacca dentro i pantaloni e ride ha una comodità bestiale perché accento anche il disturbo devo dire la giacca nei pantaloni io non ho nessun tipo di disturbo non mi fa ridere allora giacca dentro i pantaloni 2018 ma non mi disturbi affatto allora e poi c'è da dire una cosa cosa va di moda nel taschino di solito bello ma cos'è un dopo pasqua il classico avanzo di cioccolato uovo no scusa la pochette in francese ma dato che a me i francesi non piacciono perché hanno il baguettino che sa di ascella ma tu ti chiami Gapier Gapier si però ho scritto come lo vedete scritto va bene allora io decido io cosa voglio fare del mio nome è lunghissima questa clip dobbiamo tagliarla ditemi voi ditemi voi prendi le misure allora allora vi dico solo questo e non ridere no la pochette in francese visto che in italia siamo un po in crisi così è questa è la versione alluminio ok la pochette perché costa poco lo prendete meglio di così in casa con l'avanzo del pollo rosto si e poi è bella luminosa va bene ti prendo il disturbo e vado via ciao Gapier 2018 che tendenza lui tende non vi dico far cosa